allora pronta ok pronta aspetta che decido il posto qua 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 dai che c'è la luce aiuto vado? vado? aiuto ti prego dai tirati su dai pronta? si ciao i miei cappellini tanti cappellini il figlio è large però guarda qua vaffanculo cappellini adesso ti sparo anche così ma cosa fai poi? li lasci tutti la si si me ne sono liberato ah finalmente e prendi però il large che mi serve eh il large l'ho preso eh solo un large c'era si basta e basta uh anche un martello ah ecco guarda qua black scull tutto l'auto a quanto ti sparo anche un altro colpo guarda eh da qua così giù oddio oddio finalmente bene dai chiudo e poi lo farei vedere come è danke schön è sparito tuo mente guarda qua guarda cappellini che ci sono cosa facciamo? proviamo riproviamo aspetta che sto rivedendo l'apoteosi di cappellini guarda qua che bello il proletto l'ho fatta proprio zoccola comunque la dita è nuovo ok grazie Laura prego